L'appuntamento di domenica è praticamente la sesta panterissima. Ci associamo ad altri gruppi sportivi e creiamo questo circuito che all'epoca si chiamava Pedalando tra mari e colline. Ogni società sportiva doveva studiare un percorso adatto per far conoscere le bellezze del proprio territorio e coinvolgere tutti gli altri ciclisti della provincia e fuori provincia. Poi lo stop purtroppo della pandemia, i due anni ci hanno fermato e quindi non siamo riusciti ad organizzare più niente. Quest'anno cerchiamo di ritornare alla grande perché oltre alla manifestazione non competitiva che è la Mediofondo abbiamo organizzato una cronoscalata che si chiamerà Primo Trofeo San Bartolo. La cronoscalata è una gara in salita che parte a un certo punto della panoramica per arrivare fino alla piazzola di Gibas nella quale i ciclisti partono e danno il massimo che possono dare. Mentre la Mediofondo è un circuito che sono circa 80 chilometri, quasi mille metri di dislivello, passa attraverso tutta la panoramica fino a Gabicce e si inoltre verso il territorio, verso l'interno, fino a toccare Monbaroccio e poi ritornare. Poi alla fine della manifestazione sia i ciclisti della cronoscalata che quelli che hanno partecipato alla Mediofondo si ritroveranno tutti insieme in Piazza Europa dove abbiamo allestito dei piccoli stand e un pasta party per tutti i partecipanti. Siamo un gruppo di donne che si sono costituite nel 2010, all'inizio facevamo altro però l'obiettivo principale era comunque lo sport, magari uno va in palestra, fa altro così e quindi ci siamo messe insieme, abbiamo iniziato piano piano con la bicicletta, poi ci siamo resi conto che comunque la bicicletta è sport, ci tiene l'adrenalina che ci carica e tutto quanto. Abbiamo iniziato poche, poi molte, poi abbiamo iniziato a fare delle manifestazioni più semplici, un po' più impegnative e direi che questa volta con la pantirissima e la cronoscalata abbiamo proprio toccato il massimo. Ci sono giovani, meno giovani, più giovani, anche persone di 80 anni che comunque vanno in bicicletta, fanno quello che riescono a fare, il fisico va bene. Penso che non ci sia stata squadra, almeno così ci riferisce l'Axi, che sia riuscita ad organizzare una competizione amatoriale così impegnativa.